benvenuti in questo nuovo podcast della stampa e cesana io sono fabrizio frattini accanto a me c'è il nostro direttore lorenzo del bocca siamo qui per commentare i giornali che sono in edicola già oggi giovedì 7 dicembre in anticipo sulla festività di domani dell'immacolata 8 dicembre direttore di che cosa parliamo nelle nostre pagine comuni questa settimana ma intanto che è natale o perlomeno che il natale si avvicina rapidissimamente le città si sono illuminate ed è praticamente il primo natale dopo la parentesi del covid e l'anno scorso dettato dalla emergenza energetica che aveva fatto praticamente spegnere le luminarie è interessante perché a novara c'è una grande mongolfiera nella piazza del broletto a rona ha illuminato il lungolago e tronese davanti al castello di gagliate una scritta 2024 che è benaugurale naturalmente il natale per i cristiani anche la venuta di gesù bambino ed è interessante un'esposizione di presepi che è stata realizzata alla biblioteca farinonicenta di varallo con l'egida di imago verbis novara provincia di novara secondo una rilevazione del sole 24 ore è quarantaduesima in termini di vivibilità va bene il lavoro la sicurezza così così però mancano iniziative culturali andiamo alle nostre pagine del sud parliamo che come sempre di relazione che il giornale di novara zona l'eco di gagliate cittadino leggese ricche lo di beninzago quindi che cosa parliamo direttore che partito la corsa per la conquista del rettorato dell'università del piemonte orientale avance che fino a qualche tempo fa non aveva rivali adesso se la dovrà vedere almeno con due candidati che sono il professor cavino e professor rizzi e forse addirittura un altro che potrebbe spuntare dal dai dipartimenti di vercelli si è svolto il congresso provinciale di fratelli d'italia angelo tredanari che era il segretario provinciale è stato confermato in questa carica il partito del vento in poppa ritiene di fare il pieno di consensi anche nelle prossime elezioni europee il coccia prepara la bohème e lo monaco sembra che si sia deciso a comprare il novara è stato fissato l'ultimo appuntamento martedì per la firma dal notaio con quello che è successo nel passato i tira e molla gli alti e i bassi un punto interrogativo e un condizionale io ce lo lascerei però danno l'acquisizione e la vendita per fatta a olegio e benizzago si litiga il municipio a olegio l'assessore e il vice sindaco bellissimo e caraglia dopo avere votato il bilancio in giunta si sono astenuti poi in sede di votazione del consiglio comunale il sindaco li assilurati ha ridistribuito le deleghe fra gli assessori già esistenti è nominato alessandra balocco vice sindaco a benizzaglio mette il litigio riguarda via libertà che è stata ristrutturata con due corsie pedonali e due corsie per le biciclette che è contestata dall'opposizione che ripetutamente chiede dei consigli comunali per discuterne il sindaco risponde che la questione non è più di competenza del consiglio comunale che il consiglio comunale non può fare nulla l'opposizione si è rivolta al prefetto perché il prefetto d'imperio convochi il consiglio comunale andiamo al centro qui abbiamo l'informatore di vorgo manero il sempione di arona e il monterosa che è il giornale di della valsesia quindi che cosa parliamo beh vorgo manero festa grande perché il giorno dell'immacolata è l'occasione per la città di incontrarsi nella piazza attorno alla statua una statua che giova ricordarlo è stata eretta nel 1721 ed è venerata ormai dalla dodicesima generazione questa volta la celebrazione non riguarderà soltanto borgo manero ma l'intera unità pastorale e quindi anche comuni come non so bocca maggiore cureggio gatti comaggiate e quindi è un'occasione davvero per incontrarsi e celebrare questa ricorrenza sono stati stanziati dei fondi per costruire dei nuovi sottopassi le ferrovie stanno togliendo tutti i passaggi a livelli ma per andare dall'altra parte della città occorre che ci siano dei mezzi di comunicazione e delle vie rapide l'associazione mimosa che si occupa di vise senologiche sta compiendo vent'anni e prepara i festeggiamenti a gattico dopo 40 anni si risentirà la voce di un organo storico che aveva dovuto essere per così dire zittito perché doveva essere restaurato adesso sono stati trovati i soldi per metterli in ordine e si prepara un grande concerto per la ripresentazione di questo importante strumento a gozzano la prima candidata sindaco carla biscuola si è presentato ufficialmente mostrando anche il nuovo logo che avrà come come slogan la nostra gozzano a rona la lega dei diritti del malato ha riunito i volontari e ha distribuito alcuni riconoscimenti per le persone più significative dal punto di vista dell'impegno e che il problema della sanità sia importante di questi tempi è dimostrato dal fatto che a meina il meinese dell'anno sarà assegnato al medico al dottor angelo campiotti è stato distribuito il premio sport scuola da parte dei veterani dello sport che vuole premiare i ragazzi che studiano e che però si impegnano anche in discipline sportive a massino visconti si celebrano i 60 anni di sacerdozio di padre pier giorgio manni in valsesia sono contenti perché al quirinale mattarella ha citato la valsesia come esempio virtuoso di autogoverno si sta immaginando un potenziamento dell'ospedale di borgomanero ampliando il dipartimento di ortopedia e il vescovo con i metallurgi che sono un'associazione ultracentenari hanno compiuto 103 anni l'anno scorso e si avviano a celebrare il 104esimo anniversario che riunisce coloro che si occupano di fonderie di metalli sulle due sponde della valsesia da un lato e del cusio dall'altro si sono incontrati e hanno inaugurato largo metallurgi che è una zona centrale di varanno andiamo infine al nord il verbano il popolo dell'ossola e l'informatore del cusio e quindi che cosa parliamo che a omenia c'è la patronale dedicata a sant'ambrogio e a omenia è stato nominato andrea calderoni presidente degli omenesi nel mondo che dovrà occuparsi di tenere rapporti con le comunità cusiane di emigrati ma anche di organizzare dei gemellaggi che mettono in condizione omenia di diventare città del mondo e il mondo ospite di omenia aver bagna si litiga ancora per piazza garibaldi è una telenovela che va avanti da tempo i residenti e soprattutto i commercianti non sono contenti di come è stata ristrutturata soprattutto lamentano che non ci siano parcheggi e il fatto di avere costruito una zona pedonale troppo intensa dal punto di vista dei divieti provoca l'allontanamento dei clienti che dovrebbero frequentare i loro negozi questa polemica è entrata nuovamente in consiglio comunale con cinzia vallone che era un esponente del pd adesso è passata con italia viva che ha sostenuto le regioni dei residenti gli ha risposto l'assessore raffaere allevi con qualche concessione ma dicendo che l'isola pedonale non si tocca in ossolo è stata organizzata una manifestazione per la pace se si può fare un appunto si sono occupati soltanto della pace fra israeliani e palestinesi e non della pace fra gli ucraini e i russi non ha avuto una grandissima adesione 70 persone anche se quel giorno pioveva e pioveva di rotto e quindi il maltempo può aver allontanato tanti che avrebbero partecipato i vigili del fuoco volontari hanno ottenuto cospicui contributi dalla regione ed è per loro una mano santa perché villadossola ha necessità di rinforzare le strutture del capannone che in certi punti ha delle deficienze edili anche significative macugnaga ha necessità di nuove attrezzature e baveno deve comprare un autobote ma i problemi maggiori le avrebbe e potrebbe forse con questo contributo risolverlo santa maria maggiore perché non hanno un ripetitore per cui quando escono dalla città perdono i collegamenti e diventano delle isole in mezzo al mare crevola d'ossola ha approvato le variazioni di bilancio ma l'esco ha inaugurato il presepe interessante perché è stato costruito con un gioco di specchi reale è presente il panettone più alto d'italia e crodo apre il fobelli all'open day bene chiudiamo qui questa nuova edizione del podcast dei nostri giornali i giornali che lo ricordo sono in edicola già oggi giovedì 7 dicembre io sono Fabrizio Frattini accanto mai c'è il nostro direttore Lorenzo del Bocca e vi ricordo che tutte le nostre notizie sono anche online su www.sdnews.it un saluto e non risentirci la prossima settimana Grazie a tutti